salve amici bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato realizzato da un uomo che all'improvviso si è ritrovato davanti questa sfera di luce apparsa così all'improvviso la sfera di luce si muove in tutta la casa come se cercasse qualcosa ad un certo punto succede qualcosa di spaventoso questo è ciò che è stato filmato no 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 Tieni, tieni, tieni Putz, vera, vittura Nel prossimo filmato vengono mostrate alcune attività poltergeist La donna, che ha ripreso il tutto, è davvero terrorizzata Nonostante ciò è riuscita a catturare questi brevi attimi di terrore Questo è ciò che è stato filmato Mi microondas, iba a calentar algo, pero escuché rielos extraños y mi poster se cayó El de esta estrella, se cayó cuando hablé del microondas Eso sí me da miedo, ¿saben? No me quiero acercar ahí Questo video è stato realizzato da queste due ragazze Che hanno deciso di condividere il filmato E mentre stanno girando un video per TikTok Non si accorgono di aver ripreso, oltre alla loro performance Qualcos'altro di più terrificante Questo è ciò che è stato filmato Anch'io nel prossimo filmato un uomo sente provenire dalla cantina di casa sua degli strani rumori l'uomo a un certo punto decide di scendere giù in cantina per controllare cosa potrebbe provocare quegli strani rumori allo stesso tempo filma tutto col suo telefonino ciò che riprende lo terrorizza a morte questo è ciò che ha filmato and the light doesn't work great oh wait night vision ok night vision is odd ok i don't like going downstairs alright uh it came from my office sceso giù in cantina l'uomo tenta di accendere la luce ma sembra che non ci sia corrente dopo di finché decide di entrare in una stanza e dentro questa stanza si trova di fronte questo strano essere dall'aspetto stile strega che li salta addosso l'uomo non può fare altro che fuggire via terrorizzato non so voi ragazzi ma io non ho mai amato le cantine anche perché mi danno sempre l'impressione di nascondere qualcosa di oscuro l'ultimo filmato mostra alcuni fenomeni poltergeist che accadono nella casa di una donna la donna riprende il tutto col suo telefonino ma ciò che la spaventa non sono piatti e bicchieri che vengono lanciati da una parte all'altra ma ciò che riprende dopo questo è ciò che ha filmato no Siamo giunti al termine ragazzi. Il video finisce qui, noi come al solito ci rivediamo alla prossima, ciao! Ciao!